Saluti a tutti. Una cenetta a casa propria con un ospite che partecipa alle spese, magari conosciuto su internet, è una cosa legale o no? È una domanda che ci facciamo stasera con un gradito ospite, Benedetto Stefani, che è il presidente della FIPE, cioè della Federazione Italiana dei Pubblici Sertizi, qui a Lucca, e fa parte anche della Giunta Nazionale della FIPE a Roma. Benvenuto tra di noi, Stefano. Scusami, Benedetto. Allora, la domanda ti sembrerà un po' curiosa, no? Ma se io invito a cena qualcuno, che io ho conosciuto per internet, ovvero quello che è, insomma, e siamo tre o quattro, se qualcuno si partecipa un po' alle spese, sembra che sia una cosa non legittima o no? No, non è legittima perché se lei invita qualcuno… No, scusami, dobbiamo darci il tuo. Se te inviti qualcuno e inviti normalmente i tuoi amici, non dovrebbe succedere niente, perché è assurdo. Ma se tu ti metti su internet e vai su Facebook, Twitter, vai su tutti questi chiamati, queste pubblicità che ti fai a giro, su questi circuiti, chiaramente vai sul pubblico e andando sul pubblico vi dici gente che anche che non conosci, che te è la prima sera che tu vedi. Può essere simpatico, anche per chi viene, voglio dire. Può essere simpatico, però non è simpatico dal punto di vista di ordinarie leggi che ci sono, dove effettivamente si crea l'imbarazzo anche nelle categorie e anche nella gente stessa, perché inviti gente a casa tua che non hai, magari hai un bagnettino stretto, hai delle scale che non conosci, dai da mangiare fuori di quello che è, perché tutto sommato da un punto di vista fiscale, quello che è ancora più importante è l'igiene, perché a un certo momento l'igiene è quella che si va fuori. Ma c'è da sperare che chi invita alcuni ospiti, anche se appunto, soprattutto se sono un numero un po' cospicuo, tipo 10, 15, che sia, abbiano le strutture in grado di ospitarli. Ma ecco, questo è un fenomeno, peraltro, che si chiama home restaurant e che è diffuso e che cresce in molti paesi europei e anche in Italia è in crescita. C'hai qualche cifra di riferimento? Cioè, le cifre ci sono. Ora, diciamo che poi il censimento preciso è in aumento, è in aumento di mila persone, di mila attività. Perché si comincia a parlare, in Italia si comincia a parlare sugli 8, 9 mila, 10 mila, sono in aumento, sì che quando si fa questo conto qui non è quel che qualcuno ti porta preciso le cose, perché in Italia siamo tanti e negli ultimi anni questa considerazione l'abbiamo fatta anche perché negli ultimi anni sono venuti fuori, la gente non va a letto e ha in mano Facebook e guarda tutte le cose lì. Perché ci sono, addirittura io mi sono scontrato con un sito che si chiama Gnammo Gnammo Come, che è un sito dove ti iscrivi e lì ci sono tutte le iniziative che ci sono. Arrivi a un certo punto e ti dicono, vado, che so, sono a Lucca, sono a Pisa, dico Pisa, dico Pisa su questo sito e mi viene, che so, Beppe di Buetta, 15 persone massimo, 30 euro, mangiare il baccalà. Dico, cavolo, è una cosa che poi il dopo cena non mi interessa, ma se si fa un discorso del genere, anche da un punto di vista di sindacato come siamo noi, con tutte le leggi che abbiamo, la mattina ti alzi se ti scordi di guardare un frigorifero, un frigorifero a temperatura e di non metterlo scritto su un documento che ti passa a nasi, ti fanno 1.500 o 2.000 euro di multa, dico, e più c'è la chiusura, sicché con tutte queste leggi ferre, noi a livello nazionale, poi non a livello lucchese, noi si parla di Lucca ora, ma si parla un po' se si vuole parlare d'Italia. Ma anche a Lucca ce ne sono assai, no? Se si vuole parlare d'Italia. A Lucca quelli che sappiamo noi sono una cinquantina, una cinquantina. Anche lì sempre in crescita, perché all'italiano, io non so, all'inglese o uno Stato diverso dall'Italia, noi siamo talmente ganzi che sappiamo risolvere tante problematiche solo in un sorriso. Perché onestamente, dico, una cosa del genere, se non la puoi fare, non la puoi fare. Sì, ma ora poi vediamo quelli che sono i vincoli, le condizioni e quant'altro. Però ecco, più in generale, più in generale, Benedetto, c'è indubbiamente una corrente di liberalizzazione del commercio. C'è in Italia e c'è in Europa. In Italia arriva per ultima, dove tu sai perfettamente la normativa o le normative sono molto rigide. Si stanno introducendo elementi di liberalizzazione, che non riguardano soltanto l'home restaurant, guardiamo l'attuale care sharing, il carrenze, tutti i fenomeni che dovrebbero essere puntati a favorire il consumatore. La domanda che ti faccio è questa, nello specifico dell'home restaurant, non è che la cosa la volete risolvere soltanto con normative o c'è anche un problema per voi di, come dire, di innovazione dell'impresa che vende un'ottima cena? Perché c'è anche questo, io parlo di ristoranti pubblici, tu sei della Fipe, quindi o si rimane all'interno di una logica, diciamo, ottima, però sempre non innovativa, oppure c'è da cambiare strade. Ecco, non è che c'è un po' di ritardo da parte delle imprese? Il ritardo da parte delle imprese, dal punto di vista di, quando un'impresa mette un ristorante, c'è un programma della sua vita, perché una persona che mette in attività si fa un programma di vita, perché non ci vuole 5 euro per fare un programma di vita, ci vuole degli anni di lavoro, è un bel progetto. Ti metti a fare un progetto e devi andare a sentire, io voglio aprire qualcosa, un progetto, se si parte di lì, fai il progetto e ci vuole tutte le normative che ci sono. Ora, noi, devo essere sincero, dal punto di vista di categorie, io credo, io poi, io dicendo da una famiglia di 5 generazioni, io da ristoratore, negli anni passati, mi sono messo a fare anche eventi, eventi anche di musica, sicché tutto sommato non è che noi non siamo andati dietro una corrente per andare, come si è detta, innovativa. Se si faceva una cucina tipica, abbiamo fatto una cucina che la riconosce e rifà un po' qualcosa di cucina innovativa, sempre con le stesse, sicché non è che non siamo, non abbiamo percorso e non siamo andati dietro al nuovo. Il problema che ti cade con queste liberalizzazioni, ripeto, essendo in Italia, forse siamo sbagliati noi, non lo so, noi come italiani, perché all'estero il problema forse è di meno, perché in Italia se ti metti a fare una cosa, devi andare dietro a un certo tipo di normative. Quando non ci vai, dovrebbe essere un organo di controllo, che questo purtroppo manca in Italia, andare a tappeggiare queste cose. Ti figuri che il problema di questi home restaurant, che è venuti fuori, ma non per paura che il cliente ce lo portavano via, per un discorso di sistema, perché se io un fondallano pago 12-14 euro al metro quadro il giorno di spazzatura, se uno mi fa concorrenza a casa sua e fa come gli pare, da un punto di vista anche personale, mi dà noia, perché io ho una sofferenza che sono in questi ultimi tempi queste tasse e questa cosa. La critica però che vi fanno, e non parlo adesso del gnam gnam, ma più in generale, è però ancora continua a esistere la critica che non siete molto attrezzati per la concorrenza, cioè siete un po' fermi dal punto di vista di impresa. Ma la concorrenza leale, noi siamo molto attrezzati, la concorrenza sleale no, questa degli home restaurant è che magari, che so, io ho avuto anche dei problemi ultimamente, quindi questa è concorrenza sleale? Sì, è concorrenza sleale perché ha delle termini diversi, no? È come io vado in bicicletta senza patente e te vai in macchina senza patente, in bicicletta devi andare uguale a me, se vai in macchina, cioè ci sono delle cose, la slealità va sempre negativamente, pesa sia sull'orgoglio personale, su un progetto che tu fai e poi anche sul portafoglio, perché se tu mi neghi un'operazione del genere, io vado, devo organizzarmi in una certa maniera, ho dei paletti in una certa maniera, uno apre come gli pare, ci sono in altri stati, funziona, anche in America funziona, a New York, vuol dire, io ho avuto così la fortuna di andarci e vedere queste, domandare, ci sono queste cose, ma sono tutte regolarizzate, cioè a un certo, ora, quelle che rimangono bandite, se si va magari fuori New York e comincia ad andare nelle zone un po', è chiaro che lì sono un po', però normalmente uno fa l'ufficialità, mette al comune, ha la parte di igienica, sanitaria e poi paga le sue tasse. Bene, allora adesso dobbiamo fermarci un attimo perché siamo in pubblicità, noi ci rivediamo e intanto prepariamoci a questa questione, diciamo così in generale che al momento in Italia non c'è una normativa specifica che tuteli sia la parte pubblica della ristorazione sia la parte di impresa privata. Noi ci rivediamo con Benedetto Stefani, presidente della FIPE a Lucca, tra un minuto circa. A presto. Siamo di nuovo con Benedetto Stefani, presidente della FIPE, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. A Lucca si sta parlando del fenomeno in crescita dell'home restaurant. E allora io farei, Benedetto, un esempio in modo che i nostri ascoltatori ci possano seguire molto da vicino. Allora, io ho letto recentemente che un esempio classico può essere questo. Ci sono delle piattaforme web specifiche dedicate a questa cosa che offrono dei servizi di questo tipo. Sembra che il gestore della piattaforma incassi, in alcuni casi, la cifra e restituisca alla famiglia o al privato, al netto, alle tasse, al fisco, l'importo stabilito. È così o no? Quelle che abbiamo visto noi, una parte, qualcuna è stata così, ma non è che ci abbiano, si è andati tanti avanti. L'altra è solo una forma di pubblicità che per pubblicizzarti, essendo in quel CTD, e te paghino a quota, e sei pubblicizzato in quel CTD. Poi le 30 euro, le 25, le 50 euro del pranzo o della cena, te le prendi quando ti telefonano a te, perché c'è il tuo numero di telefono, ti telefonano e ti dicono, siamo 10 amici, ok, stasera baccarà la brace, arrivi e mi paghi. Capisci? Però il sito, questo qui che dico io, che ho conosciuto, questo Gnam Gnam, Gnam Gnam Com, qualcosa del genere, dove effettivamente non c'è una percentuale lui, ma c'è una quota, quanto mi hanno detto, tutte cose che non è che siano scritte, però mi dicano che c'è questa commissione, fra virgolette, questi soldi, che paghi le pubblicità per essere lì sopra, paghi un totte. Allora vediamo un pochino più da vicino le due grandi obiezioni che voi fate, la questione sanitaria e la questione fiscale. La questione sanitaria, il gabinetto non è sufficiente? La questione sanitaria è semplice, non è solo il gabinetto. Il gabinetto è l'ultima cosa. Ci sono tante altre prescrizioni che devono attenere. Per dire, noi abbiamo mandato a livello di FIPE nazionale, in giunta, siamo andati a una commissione dove ci sono stati anche parecchi onorevoli di questo governo, che ci hanno parlato insieme al Ministero della Salute, dove dopo abbiamo fatto questa commissione, dopo neanche un mese, un mese e mezzo, è venuto fuori il parere del Ministero della Salute, dove dice che effettivamente non possano andare avanti in questo sistema, sono persone che non possano farlo, addirittura hanno messo anche delle pene, perché qui si fanno indietro che delle pene da un punto di vista sanitario sanitario di 10, 12, 15 mila euro. Quindi da questo punto di vista ci vorrebbe una normativa che stabilizzi come deve essere la garanzia sanitaria. C'è già una normativa, sicché il mese... Per il privato. Il privato, c'è già come il pubblico, se fa una cosa pubblica, perché lui si trasmette, sta trasmettendo su internet, va sul pubblico, va con persone che non conosce e chiaramente arriva a essere un pubblico esercizio anche quello. Quindi automaticamente dovrebbe rispondere, però la norma non c'è. La norma, il mese con questo parere, ha detto semplicemente che la norma ricade sul pubblico, sicché loro non possano farlo. Però al momento non c'è la norma specifica, quindi presumibilmente ci sarebbe da legiferare. Ma lui legiferare la commissione, eccetera, poi arriverà un parere ora a metà di marzo, ancora di più, dove sarà una legge che sarà messa con l'articolo tot e che c'è già un articolo nella legge attuale, sicché loro si devono ronare, cioè chi vuole fare queste cose, un faltero che mandare un documento alle Asle, un documento al Comune, che lui fa questa operazione e niente da fare, vanno a visitare la casa, ti dicono di attenere a queste cose e la può fare. E quindi è un'autocertificazione? Però se fai così, a questo punto, anche con le liberalizzazioni che noi si è sempre auspicato, le liberalizzazioni, da un punto di vista di commercio, però non è fuori dalle righe, è una cosa che rientra sul regolamento nostro, sicché va bene. Ecco, allora vediamo l'altro aspetto che è quello fiscale, forse è abbastanza delicato. Quello fiscale, semplicemente, loro in finora andavano avanti con il discorso di dire le 5 mila euro che erano, che io, cioè uno qualsiasi, arriva a 5 mila euro, sicché le fatture non è quelle che facciano. Quindi non occorre la partita IVA, spieghiamolo ai nostri telespettatori. Non occorre la partita IVA. Quindi fino a 5 mila euro può accadere di tutto. Esatto, però facendo, con quello che ha detto il Mise, cioè il Ministero, rientrando poi nel pubblico, e dopo deve fare la partita IVA. Perché ora a questo punto queste persone che fanno da mangiare, se vogliono essere tutti regolari, anche da un punto di vista di finanza, si devono, e di tutto quel che sono, per le tasse, si devono mettere in regola anche come fosse un locale. Chiaramente, chiaramente che succede? Succede che è assurdo, è assurdo, no? Ecco dov'è che noi, cioè si è fatta giusta la lotta, perché ora, Luca sono una cinquantina, ma Roma, Milano, Torino, roba da 1500, cioè in questi ultimi anni l'hanno fatti, è una cosa in crescenza, ma da mettere in paura veramente, perché gente che c'ha il locale sotto, e visto che nelle città hanno tutte le trattorie sotto, nei palazzi sopra facevano queste osse. Cioè siamo arrivati a questi livelli. È chiaro che poi si arriva a quei livelli lì, qualcuno poi la mano ce la mette. È un pochino come quello che succede a Parigi con l'Italia, con i taxi, eccetera. Esatto. Cioè, ma appunto, l'impressione è, perché, permettimi, voi parlate di attività illegale, che non è illegale. Altri parlano di attività estralegale, cioè dire un'attività che non è che sia illegale, che deve essere normata. Ci vogliono delle norme. E voi siete un po' in bilico tra l'essere e il non essere. Quando mi dici che fino a 5.000 euro l'anno non faccio l'IVA, però te mi dici, però io in realtà sono un esercizio pubblico questi qua, quindi anche lì c'è un movimento. Infatti sono nate su questo movimento, di sussultore che non è tutto... Però con tutti questi pareri che sono arrivati, io credo che in Italia si arriverà più tardi, ma credo che fa qualche mese arriverà una norma anche sugli home restaurant, così almeno scritta, nell'articolo TOT, hai visto come fanno? Fanno un articolo TOT, un emendamento, anche gli home restaurant devono andare dietro alla classificazione dell'attività produttiva, perché effettivamente sono quelle cose lì. ripeto, se uno a casa sua, perché all'inizio era una presa in giro, dice ma come te vuoi prebire la gente di fare le cene in casa? La gente siccome quando capisce... Però non è così, qui si sta parlando di uno che si mette su internet, ripeto un'altra volta perché siccome la gente poi non capisce, e che si promuove la sua attività nella sua casa, nel suo appartamento, le serate, due giorni una settimana, tre giorni una settimana, con un compenso che insomma 30 euro, io vedo il prezzo, 30-35 euro, non è un prezzettino. Ma questo accade anche per i corsi di formazione, per esempio si legge spesso che chi è bravo a cucinare, per esempio, organizza un fine settimana con delle signore o signori per insegnare a fargli delle polpette, in particolare quello che è, e poi mangiano insieme pagando, partecipando ai costi. Ma è un'altra cosa questa? Questa è un'altra cosa, perché normalmente quelli che si sa noi ultimamente, a vedere un caso o due, può darti che venga fuori, che abbiamo fatto queste cose. Però è anche vero che questa è una cosa che fanno normalmente, io a casa mia stasera, ho 10 ospiti, e dico mi fai chiamare Benedetto, a casa tua, mi chiami Benedetto Luca, a farmi da mangiare, che si mangia? Io stasera voglio mangiare lo stoccafisso, e io ho il mio amico di fiducia. E tu devi farlo buono, perché lo uccidi spesso, il baccalà non lo stoccafisso. Sono quelle vecchie ricette, della trattoria di una volta, trattoria a bettole, come si chiamavano una volta. Allora a questo punto dico, Baralla a Lucca, Baralla a Lucca, di quel tempo sicuramente sì, Baralla, c'erano tanti, c'era Pelleria, ma noi eravamo anche noi, perché si venne da quel tempo lì, una volta mangiavano farro, zuppa, baccalà, cocafisso, come lo chiamano, il pesce, salacchino, non so se te lo ricordi. Però ecco, l'operazione è totalmente diversa, perché questa gente qui va a casa e dice io stasera mi voglio chiamare Luca perché mi fa un bel baccalà, o mi fa una bistecca, ma è diverso. Allora, io ti faccio le ultime due obiezioni che sono poi domande, insomma, la prima è questa, la risposta, abbiamo un minuto e mezzo circa, per potenziare la capacità concorrenziale dell'impresa privata, ristoratore di buona qualità come te, eccetera, è impensabile di formalizzare una specie di consorzio anche informale, volendo per l'acquisto di beni primari, per poi fare la cucina, questa è la prima domanda, in modo da, come dire, essere più competitivi sul mercato, questa è la prima domanda. E la seconda, non è che in Italia siamo ancora molto rigidi dal punto di vista degli orari, nel senso che, forse non riguarda i ristoranti, ma in generale si nota che, mentre in molti altri paesi, gli orari mai sono allungati fino a mezzanotte ed oltre di una marrea di esercizi, in Italia siamo estremamente rigidi, ancora con delle pause di 4-5 ore addirittura nel pomeriggio, basta vedere i panettieri, quindi creando anche dell'esquilibrio non di poco conto. Queste le due domande e finiamo la nostra bella conversazione. Sì, la prima domanda sul discorso della ristorazione per quanto riguarda, come si chiamava? L'acquisto di beni, di materiali. Ti posso dire che a livello di ristorazione, io specialmente l'ho fatto sulla Toscana, acquisto collettivo, abbiamo fatto, noi come categoria abbiamo cercato sia col pesce di andare con la col diretta, abbiamo fatto il pesce nella rete su tutta la zona. Io stasera, per dire, viene a mangiare da me, ora a quest'ora qui forse faccio un tempo, ma se sapevo che tu venivi a mangiare da me e volevi un pesce, io chiamavo il pescatore diretto su internet, mi mandavo, io domani sera ciò che te viene a mangiare da me, hai bisogno di un po' di pesce fresco, pescato, pescato, mando le mail, dico che pesce ci sono? Loro mi mandano le mail istantaneamente sul pesce, quello che è, e io compro direttamente dal cosi, che l'abbiamo fatto in tanti questa operazione qui, soltanto che ha decollato da un anno a questa parte e piano piano va. Noi questa cosa qui ci siamo dentro per fare. Bene, allora l'altro punto, l'altro punto invece era gli orari che forse non vi riguarda direttamente, però in generale si osserva che in Italia siamo ancora indietro rispetto all'orario di apertura. Gli orari sull'apertura è un problema sindacale, un problema anche sindacale perché qui ci sono delle problematiche, nelle zone turistiche ci sono gente che ora hanno cominciato a fare per il Lucca Centro quando c'è il turismo hanno cominciato ad allungare le giornate, fanno 24 ore quasi, non dico la notte fino a mezzanotte danno da mangiare, 11 e mezzo mezzanotte, mezzanotte un quarto. Nelle periferie c'è un problema perché aprire l'orario fino alle 3 e mezzo quello che tu hai a lavorare c'è un certo orario, se lo mandi fuori orario è un problema sia di denaro che devi sborzare in più e quello che è il tornaconto della giornata perché se dalla porta entrassero come vai in Spagna o vai da tante parti che entrano a filotte e a sempre tutte le ore ma in Italia l'italiano sto parlando il turista sì ma l'italiano ha orari diversi da tutti i resti perché te alle 3 e mezzo le 4 non ci andresti mai a mangiare normalmente io parlo di italiano invece il turista sì lo straniero sì perché è abituato sono due mentalità io se mi trovo in Spagna che si mangiai le 10 e mezzo il classico se vai in America vai a mangiare le 7 e mezzo se tu vai in Spagna che mangia le 10 e mezzo è la cultura che è così bene ho capito comunque appunto essendo anche un paese turistico dovremo comunque adeguarci in qualche modo noi ti ringraziamo ti ringraziamo molto Stefano per essere per aver voluto essere qui con noi nel nostro studio ti ringraziamo ringraziamo i nostri telespettatori che ci hanno seguito Benedetto Stefani è presidente lo ripetiamo della FIPE della Federazione Italiana dei Pubblici Egerzizi a Lucca e dirigente nazionale della stessa federazione noi ci rivedremo la prossima volta tra una settimana alla stessa ora grazie grazie